Sono in una sala di doppiaggio perché sto doppiando un cartone animato, un film più che un cartone animato, il nuovo film della Dreamworks è Kung Fu Panda e io, essendo anche molto simile al personaggio che è un po' cicciottello, sto doppiando Po, che è il panda. Ah, penso che ci sia stato un leggero sbaglio, eh? Sembra che tutti credono che io sia... La sacra sala dei guerrieri! Non è vero! Guarda che posto! L'armatura di Maestro Rinovolante con vere ammaccature da combattimento! Wow! La spada degli eroi! Dicono che è talmente affinata, che basta guardarla per... Ah! L'invisibile tridente del destino! Ho visto solo ritratti di questo ritratto? No! La leggendaria urna dei guerrieri sussurranti! Si dice che contenga le anime di tutto l'esercito Tenshu! C'è nessuno! Scusa, dovevo venire prima da te! Somma, non è che andavi da qualche parte! Salve, come va? Come c'entrano 5 mila? Maestro scelto! Qualcuno l'ha rotta? Solo la tua faccia tosta, vuol dirlo! Sì! 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 Sì!